Siamo tornati, più in forma che mai! Arobo voi, youtube, sono indipendenti con questo nuovo fantastico video e oggi siamo qua sulla seconda puntata del secondo episodio di Poppy Playtime E... niente, nelle puntate precedenti siamo rimasti con noi che stavamo sclerando male con un bel gioco di Simon Seize con una scimmetta che ci stava per fare tipo, diciamo, a trasformare una piadina in pratica Ora, Movi c'è da alcuna parte del codice e quindi è tempo di andare a cercare la seconda parte del codice E per farlo cosa bisogna fare? Beh, facile, dobbiamo andare a fare un altro giochino Devo spararmi, devo spararmi per queste cose qua No, spero di farlo così Po, 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 po Po, po, po Po, po, po Wow, hai fatto fantastico! Chi ti ha permesso di essere questo smart? Mamma è molto orgogliosa di te Ma sono sicura che ti ha già detto quello di te Ma il prossimo video è Wackawuggy! Aggi andiamo a scuola e si è divertente! Ho paura adesso Perché ho tanta paura in questo momento E ora vediamo un pochettino questo minigioco. Ok. aveva strumenti attaccati a loro così che potrebbero essere tornati quando si sono troppo vicino con i bambini Hmm Have fun Oh no Oh no Oddio 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 fuori ma di cavolo sono meravigliosa dove sono gli altri? io sono troppi oh oh ho ho ha mamma è molto orgoglosa di te No, no, grazie. Grazie, mommy. Ti adoro anche io. Ti adoro moltissimo. Perfetto. No, no, no. Ciao. Cos'è? Perfetto. 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 ESSO. Perfetto. 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 Ok Ok E abbiamo buttato sotto questa roba qua Che bello Ora scendiamo qui E siamo andati qua sotto All'entrata Perfetto Siamo tornati qui E ora cosa devo fare? Status Cos'è sto giochino? I'm scared Che bello Che bello Hai spavuto queste prima? Tu sei davvero buono Parece che tu sei pronta Per il giro finale Statue Segui a mamma Da un'altra volta Spero che ti avessi un divertente giorno nella stazione di game Ci vediamo la prossima Sotto Allora abbiamo il nostro ultimo giochino Ok Oh 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 Welcome to Statues This advanced obstacle course is designed to test your physical endurance and strength The rules are simple The lights will turn off You can move through the obstacle course at this time However, when the lights turn on, you can look around, but cannot move You may move again once the lights turn back off The loveable PJ Pugapillar will follow you If PJ reaches you, your test is over That's all Good luck What? It was always so sad to see the kids go They called me Mommy because I was the closest thing they ever had to one But they come for games And never come back They left Mommy to die alone Mommy didn't deserve that And you You've worked here So if anyone deserves to die alone All that didn't hardly make sense I should keep that I should keep and consummate I said He's been talking I didn't even want I don't want I don't want I don't want But it It don't have to be Grazie a tutti. 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 Um... Grazie a tutti. No, io ne fugo. Ok... Ok... Grazie a tutti.